Il cadavere di Domenico Citelli, pensionato Catanese di 71 anni, è stato ritrovato questa notte grazie alla segnalazione di alcuni vicini, avvolto in un sacco legato con delle corde all'interno di un tombino nel giardino della sua casa di Via Teocrito a Pedara, dove viveva da solo. Gli inquirenti escludono che si tratti di un omicidio maturato negli ambienti della criminalità organizzata. L'uomo incensurato sarebbe stato ucciso da un colpo di fucile alla testa, lo stesso ritrovato in casa e di proprietà della stessa vittima. Si indaga sulla sfera personale dell'uomo.